Dobbiamo puntare invece sulle donne, dobbiamo puntare sulle donne per la ripresa economica, perché le donne hanno coraggio, hanno creatività, hanno idealità, ma anche pragmatismo, hanno visione del futuro. Ed allora bisogna liberare le loro risorse per dare l'infa al nostro paese, ad una Italia che può ritrovare nella identità femminile la virtù, le virtù per un rinnovamento profondo. Ed allora, diciamo che il ritratto delle donne, questa sala delle donne, ci insegna oggi una grande cosa. Grazie Presidente Volveni, ci insegna a guardare indietro, per guardare avanti, come già lo di fronte, per guardare e scontare i volti delle prime donne, per scommettere con forza nella via femminile, per come volare, per un futuro fatto di prospettive e fatto di opportunità. E allora, ancora una volta, dico grazie e vorrei anch'io fare gli auguri ad una grande donna, che è Miliana Segre, la senatrice Miliana Segre, al quale, lo devo dire, ho dedicato come esempio femminile il mio discorso di insediamento. Grazie e grazie ancora.